Sfiora la tragedia nel Cilento, un ragazzo originario di Velina nel comune di Castelnuovo Cilento qualche giorno fa è caduto da un'impalcatura mentre lavorava in un cantiere tra Castelnuovo e Adascea Marina. Il ventenne improvvisamente ha perso il controllo ed è caduto nel vuoto precipitando da un'altezza di circa 3 metri. Gli altri operai presenti lo hanno subito soccorso e il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo dove è stato affidato ai sanitari del pronto soccorso. Al giovane sono state riscontrate diverse fratture tra cui quella più grave ad un piede. Dopo gli accertamenti di rito presso la struttura sanitaria di Vallo il ragazzo è stato trasferito a Napoli presso l'ospedale Vecchio Pellegrino dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi e l'ennesimo incidente sul lavoro che si registra anche sul territorio cilentano. Al ventenne è andata bene per lui qualche ossa rotta e tanta paura. Resta comunque l'allarme sicurezza sui cantieri.